capitolo 19 assaggio l'arcobaleno è piuttosto cattivo adesso posso cancellare dalla lista di cose da fare prima di morire saltellare in un campo mentre creo arcobaleni quando uscii dal fiume qualche centinaio di metri più a valle grover stava suonando il suo brano da ultima spiaggia lontani echi di ymca dei village people risuonavano nella grotta un chiaro segno che stava esaurendo il fiato e l'energia perché quando qualcuno suona ymca è quasi sempre un grido d'aiuto annabeth mi aveva dato istruzioni di saltellare per il prato tenendo in mano il caduceo di iride era sicura che così si sarebbe creato uno splendido arcobaleno che avrebbe attirato l'attenzione dei serpenti con un elevato indice di gradimento della serie o bello nel frattempo lei sarebbe diventata invisibile avrebbe trovato grover e lo avrebbe tratto in salvo gettando frollini serpentini quanto bastava per tenere lontani i rettili e se non riesco a far funzionare il caduceo domandai io ho fede rispose annabeth ero sicuro che stesse cercando di non ridere e se non riesco a seminare i serpenti che mi inseguono spegni l'arcobaleno suggerì una volta disattivato dovresti cavartela e qualunque cosa tu faccia non smettere di saltellare da bravo soldatino feci come mi aveva detto non appena uscito dal fiume mi infilai le scarpe che erano finite in una vicina macchia di canne e cominciai a saltellare nell'erba andai avanti per una decina di passi poi mi resi conto che annabeth doveva avermi trollato sarei andato molto più veloce correndo e dubitavo che al caduceo sarebbe importato mi lanciai attraverso i campi e come voleva si dimostrare dopo solo pochi passi il bastone cominciò a brillare nastri di luce scintillante si sdrotolavano dalla piastra in bronzo celeste illuminandosi sempre di più a mano a mano che correvo poco dopo mi ritrovai a trascinare un arcobaleno sottilissimo di 15 metri facendo risplendere i campi di tutti i colori di una scatola di matite ebbi un flashback di quando ero bambino cioè un bambino per davvero non come nel locale di ebe mia madre mi aveva portato all'east meadow a central park per far volare un aquilone per la prima volta nella mia vita mi tornò in mente che correvo nel prato sorridendo beato mentre il mio grande polpo di nylon azzurro si sollevava nell'aria mi rattristai un po pensando a quanto tempo era passato e a come l'aquilone era stato distrutto da un fulmine nel bel mezzo di una giornata di sole non appena si era messo a volare perfino all'epoca prima di sapere che ero un semidio zeus mi teneva d'occhio perché è così che si fa quando sei il re degli dei passi il tuo tempo prezioso a essere il più meschino possibile divertendoti a friggere in cielo gli aquiloni dei tuoi figli e nipoti illegittimi in ogni caso era bello avere una seconda possibilità con il caduceo sollevato in alto accelerai e riempì la grotta con la mia parata arcobaleno in solitaria non ci volle molto prima che udissi dei frusci e dei sibili nell'erba dietro di me i serpenti tanti serpenti si stavano avvicinando da ogni parte felicissimi di seguire il collettivo oh bello e di mangiare qualunque cosa lo provocasse quel pensiero mi spronò a correre più veloce dopo un altro centinaio di metri commisi l'errore di guardarmi alle spalle l'intero campo si stava schiantando contro di me come l'onda di un surfista l'erba crollava sotto il peso di migliaia di serpenti striscianti da qualche parte in lontananza la musica di grover si fermò esitante sulla y di ymca sperai significasse che il mio amico satiro era al sicuro e che annabeth lo stava accompagnando fuori dalla grotta se fossi riuscito a correre ancora un po avrei potuto spegnere l'arcobaleno e tornare verso l'imboccatura della caverna un attimo dove era l'imboccatura un po troppo tardi mi resi conto di avere perso l'orientamento ero immerso nell'erba fino agli occhi e non avevo nessun punto di riferimento l'unica cosa che riuscivo a sentire era il rombo del battaglione di serpenti cornuti alle mie spalle probabilmente mi stavo ancora dirigendo verso ovest nella direzione opposta al fiume tuttavia non potevo esserne sicuro la luce dell'arcobaleno mi confondeva la vista e la crescente sensazione di panico che provavo non mi aiutava certo a pensare in modo lucido cominciai a girare verso destra nella speranza di riuscire a condurre i serpenti in un ampio arco che tornava verso il fiume non avevo calcolato quanto fossi stanco però far esplodere il fiume e il isso aveva richiesto tanta energia sentivo le gambe pesanti i polmoni mi bruciavano stavo perdendo velocità i rettili si avvicinavano da ogni parte così ovviamente scelsi quel momento per inciampare su un sasso mi ritrovai con la terra in bocca la caviglia urlò di dolore perfino dopo aver sopportato ferite da spada ustioni da acido e il soffio infuocato di un drago è una rottura quanto una cosa banale come una caviglia slogata possa fare male mentre cercavo di rialzarmi mi sembrò di avere degli spuntoni di acciaio che mi schizzavano lungo la gamba avanzai soppicando di qualche altro passo con il caduceo a sostenere il mio peso ma ero diventato un bersaglio lento ormai i serpenti sciamavano verso di me mi diressi verso l'affioramento di rocce più vicino e cominciai ad arrampicarmi così almeno avrei potuto vederli raggiunta la cima non fui felice della vista che mi si parò davanti un mare di serpenti circondava il punto dove prima ero caduto alla luce del caduceo di iride i loro occhi scintillavano di rosso le corna erano adorabili in modo terrificante piccoli uncini bianchi e rosa mentre i rettili si avvicinavano ammirando la luce dell'arcobaleno le loro bocche si aprirono con perfetto tempismo le fauci rosse si bilavano le lingue nere guizzavano per assaporare l'aria era come se dicessero che bontà nehi esordì con un filo di voce ne possiamo parlare per tutta risposta loro si bilarono mi chiedevo se avrei dovuto sguainare la spada risposta no ce n'erano troppi senza contare che se avessi attaccato l'impresa non sarebbe più stata cruelty free e anche se fossi fuggito sarebbe stato tutto inutile e probabilmente sarei morto comunque speravo che almeno grover e annabeth riuscissero a scappare speravo che il isso si sarebbe goduto il suo bel fiume pulito la luce del caduceo sembrava l'unica cosa che impediva ai rettili di attaccare la sommità pulsava ancora dell'energia dell'arcobaleno e gli occhi dei serpenti la fissavano rapiti ero talmente stanco che riuscivo a malapena a mantenere l'equilibrio avevo la sensazione che se fossi inciampato il caduceo avrebbe smesso di brillare a quel punto sarei stato un pranzo a buffet ma dovevo provare a fare qualcosa sollevai il caduceo l'arcobaleno si illuminò le teste di migliaia di serpenti si sollevarono al contempo spostai il bastone avanti e indietro tutti i serpenti seguirono la luce facendo di no con la testa agitai il bastone in su e in giù un mare di serpenti annui contemporaneamente come gatti che seguono un puntino laser trattenni una risata isterica stavo per essere divorato dai serpenti cornuti ma se non altro mi divertivo non potevo stare in piedi lassù all'infinito agitando una bacchetta magica prima o poi mi sarei stancato o i serpenti si sarebbero annoiati a quel punto si sarebbero arrampicati sulle rocce e mi avrebbero morso a morte perché il mio arcobaleno era molto bello non volevo nemmeno aspettare che annabeth e grover tentassero di salvarmi non riuscivo a immaginare come avrebbero potuto distrarre così tanti serpenti senza farsi uccidere pensai ai progetti che io e annabeth avevamo fatto per il college e per il futuro pensai a tutte le cose che avrei voluto dirle avrei voluto almeno farle sapere quanto la amavo all'improvviso sentì i piedi più leggeri la pressione sulla caviglia slogata si era allentata stavo sollevando il caduceo talmente in alto da lussarmi il braccio e mi domandai persi perché lo stai facendo non lo so risposi perché non sono molto collaborativo quando parlo con me stesso i serpenti osservavano affascinati l'arcobaleno che diventava più brillante mi ritrovai in punta di piedi a cercare disperatamente di mantenere la stretta sul caduceo di iride alla fine mi resi conto che non ero io a sollevarlo era lui a sollevare me il mio primo pensiero fu perché il secondo fu aspetta un po è il caduceo di una messaggera gli dei volano per consegnare i messaggi no un attimo prima che il bastone cominciasse a tirarmi verso l'alto stavo pensando a quanto volessi dire ad annabeth che la amavo era questo il messaggio mi aggrappai con entrambe le mani al caduceo portami da annabeth gli ordinai i miei piedi lasciarono le rocce e salì lentamente nell'aria fredda umida e scura sotto di me i serpenti rimasero a guardare allibiti addio amici miei li salutai siate buoni tra voi poi ascesi al cielo mi domandai se non stessi lasciando loro in eredità una nuova religione magari avrebbero raccontato alle future generazioni storie su uno strano giovane dio dell'arcobaleno che aveva saltellato tante volte prima di tornare in cielo o forse stavano solo pensando quel ragazzo è proprio strambo mentre acquistavo velocità l'arcobaleno scintillava intorno a me avvolgendomi di luce mi si torsero le viscere gli arti persero consistenza non stavo solo volando dentro l'arcobaleno ne stavo diventando parte il che sembra molto più figo di quanto fosse in realtà tutte le molecole del mio corpo si dissolsero trasformandosi in energia la coscienza si estese come se esistessi simultaneamente in ogni punto del mio percorso eppure conservavo ancora tutti i miei sensi fisici non chiedetemi perché ma lo spettro della luce sapeva di rame aveva un odore di plastica bruciata cominciai a domandarmi se era quello il motivo per cui iride si era stancata del lavoro di messaggera e aveva messo su un'attività in cui poteva bruciare incensi e applicare oli essenziali mi rimaterializzai all'imboccatura della grotta proprio accanto ad annabeth e grover il mio amico satiro ansimava e si stringeva le ginocchia ma sembrava illeso salve creature terrestri esordì annabeth fece un salto per lo spavento cosa come è carina quando si agita non succede molto spesso così devo godermi la scena quando capita ho un messaggio per annabeth cheese continuai ti amo le diedi un bacio ma non fu facile perché lei cominciò a ridere ho capito disse allontanandomi con garbo il caduceo del messaggero bel lavoro sì avevo programmato tutto non ne avevi la più pallida idea solo perché hai ragione non significa che io non mi senta offeso mi rispose con un bacio ti amo anch'io testa d'alghe grover si schiari la voce io sto bene grazie voglio bene anche a te g man lo rassicurai hai suonato da urlo beh tentò di assumere un'aria burbera ma a giudicare dalle orecchie rosse intuì che era intimamente compiaciuto torniamo a manattan prima che la situazione diventi assurda esitò ancora più assurda cioè sul treno del ritorno sembravamo tre ragazzi normali che avevano trascorso la giornata arrotolarsi in un campo fangoso a yonkers a parte il fatto che io avevo il caduceo più pulito e scintillante dell'universo e ogni volta che facevo un rutto emettevo una nuvoletta viola o verde capitolo 20 iride accetta paypal il pomeriggio successivo restituimmo il caduceo a iride ero felice di toglierlo dalla mia camera perché tendeva a scintillare e sparare arcobaleni in giro per la casa ogni volta che pensavo a un messaggio per qualcuno o che passava a un furgoncino delle poste quella mattina mia madre aveva ricevuto una speciale consegna di libri dal suo editore e il caduceo per poco non aveva minato il fattorino ma 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 ma